Salve, buongiorno. Io sono Fabio e sto raccontando la mia storia. Qui nel 2017 ho scoperto di avere un calcinoma alla prostata e di conseguenza ho dovuto fare l'intervento per eliminare il calcinoma, quindi ho fatto una prostatite bricozottomia radicale. Dopo aver subito l'intervento ho scoperto un mio deficit erettile e grazie al mio angelo che ho qui a fianco abbiamo scoperto il dottor Antonini. Siamo riusciti. Il dottor Antonini l'ho conosciuto sui social e devo ringraziare perché veramente è stato il nostro angelo come si dice che siamo riusciti a uscire da questo tunnel grazie a lui e quindi siamo riusciti a contattarlo e poi successivamente per l'intervento mio marito finalmente si è convinto ad affrontare questa cosa e ti posso dire che lo rifarebbe anche domani mattina senza nessun problema perché io non finisco mai di ringraziare il dottore perché ha ridato vita, ha ridato vita a me, ha ridato vita di coppia, cioè siamo ridiventati una coppia francamente parlando noi siamo stati tre anni come se stavamo dentro un tunnel cioè ha finito anche la vita di coppia perché parliamoci chiaro come una coppia poi alla fine che è quello che lega la coppia chiude il cerchio però purtroppo poi quando si interrompe bisogna comunque affrontare e arrivare a trovare una soluzione e col dottor Antonini siamo riusciti a trovare una soluzione ma proprio nel come si dice nel migliore dei modi nel migliore dei modi e si può e si può non bisogna non bisogna arrendersi secondo me assolutamente bisogna documentarsi, documentarsi, parlare e poi decidere poi di affrontare una cosa del genere che ne vale la pena detto da chi ci è passato si esce fuori dal tunnel alla grande proprio alla grande perché siamo tornati veramente a essere una coppia come prima non posso dire di non aver passato brutto periodo brutto brutti momenti però sono un ricordo e come dice il dottor Antonini voglio dire questo che lui dice sempre non date giorni alla vita ma vita ai giorni perché quella è la cosa importante non bisogna sprecare neanche un attimo noi forse abbiamo sprecato pure forse un paio di anni della nostra vita stiamo recuperando alla grande che sempre grazie non mi stanco di dirlo non mi stanco di dirlo grande grande professionista ma più che altro a livello umano a livello umano è una splendida persona e combaciare queste due cose è bellissimo secondo me perché non bisogna solo sul lato diciamo medico ma bisogna anche comunque essere aiutati di empatia di comprensione certo è la cosa più importante da parte mia io ne parlo con tutti quindi da quando ho fatto l'intervento non è che nascondo quello che ho avuto e quello che ho fatto da parte mia io dico il dottore se serve una persona come promoter guarda io sono sempre a disposizione anche in tutto il mondo guarda perché dopo aver vissuto quello che ho vissuto io non lo auguro a nessuno guarda a 50 anni ma non è l'età ma 50 60 70 20 quindi non conta l'età ma conta bisogna trovare la persona giusta bisogna avere fiducia della persona giusta in questo momento noi siamo stati fortunati in questo frangente siamo stati fortunati perché abbiamo trovato il dottor Antonini io ho avuto degli amici cari che hanno avuto lo stesso problema via però sono stato un po' detubbanti nell'affrontare l'intervento che ho subito io di protesi peniena e adesso tuttora abbiamo visto che loro si sono allontanati da me perché hanno visto i risultati che noi siamo a essere ritornati in una coppia come prima gioiose ridiamo scherziamo noi sabato sera balliamo usciamo quindi siamo ritornati alla coppia di prima noi per quattro anni per quattro anni tutto questo non facciamo niente dalla mattina alla sera dentro casa abbiamo rinchiusi noi stessi i nostri problemi e a pregare che cosa sono? ho provato di tutto non è che io ho provato prima di intervento ho provato il Cialis ho provato le punture di noi di Gaverget di Gaverget che non è ancora nessuno ho provato il Viacaro ho provato di tutto prima di fare l'intervento però abbiamo visto poi io dico sempre dopo l'intervento di di prostata dopo della prostata naturalmente viene la disfunzione rettile ma bisogna provare perché o niente o avere un minimo di luce di speranza di speranza io invito tutti quanti se a me mi direi guarda o niente rimane così o c'è la possibilità facendo questi interventi di avere io inviterei tutti a avere un minimo di speranza quindi il mio messaggio il nostro messaggio dice apritevi e parlatene provate di tutto e chiamate le persone giuste si può risolvere in modo all'agrande si può risolvere e il dottor Antonini è una di queste persone che ti può risolvere all'agrande il vostro problema posso io dirvi veramente che le dimensioni sono aumentate secondo me sono più di prima anche nel momento dell'erezione logicamente ecco quello che stavo dicendo il dottore il dottore rideva ma è vero è vero dottore io scherzando ho detto il doppio però non il doppio però diventa grande diciamo sì che non è come io vengo qua e faccio la visita di lui no assolutamente il momento dell'erezione cambia proprio fisicamente dottore comunque poi a livello fisico non si accorge di niente è talmente naturale che uno fa fatica a pensare che sia una protesi che sia qualcosa di estraneo al corpo che invece non si nota beh infatti dai primi giorni che ti ricordi che noi vedevamo sempre le interviste che faceva il dottore sui social e vedevamo i signori dicendo guarda io sto meglio di prima vado meglio di prima c'ha ragione è vero è verissimo è la verità è la pura verità vai meglio di prima sicuramente pura verità questa non è solo per tanto per per parlarne è così è così è bisogna crederci bisogna crederci mai mai smettere di credere esatto la speranza è l'ultima a morire mai smettere di credere perché grazie dottore no assolutamente io la trovo una cosa normalissima anche perché tra me e lui c'è un'intesa non esatto non la vedo proprio anzi non l'ho mai data io dall'inizio non sarei un ipocrita loro dottore pensano che uno quando c'ha la protesi prima ti fa l'amore va al bagno si gonfia e poi fa l'amore no assolutamente io non faccio così assolutamente è naturale non mando che facciamo l'amore capito non si nota niente non si nota niente ecco perché posso dire che tranquillamente come prima posso assicurare che questa è la verità non si fa proprio fatica a notarlo non si nota anche perché poi eccoci logicamente ci deve stare anche in intesa tra una coppia perché è la cosa principale la cosa fondamentale quello è tutto quello la cosa fondamentale poi il resto viene da solo è talmente spontaneo che non si ci fa più caso anzi posso dire che forse anche forse pure meglio di prima posso dire anche questo subito come ripeto anche domani mattina dottori speriamo di no però speriamo di no però si serve come no come no come no sappiamo dove sappiamo dove devo andare mettere le mani per mettere le mani logicamente grazie 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 grazie